O una cassaforte? Questa era indissuso, hanno lasciato un piccola cosa aperta e sono diventati proprietari piccoli. Tutto lì, perché se era buccio, sono diventati... Ma quello è un forno? Per un qualche laboratorio? Quello lì? Sembra un forno, sì. Quello deve essere una cosa per la macchina fotografica. A camera oscura. Ma per farlo in fuori... No, che è quella a fare. Un forno. Un forno. I piccioni. Un forno per la creta. Comunque, ragazzi, qui è una bella disimpeggiata. Una pulita diventa bella la cuota. E poi la slashe e la scuola. La scuola. La scuola. La scuola.